Stiamo con ordine. Buscetta accende una sigaretta, aspira profondamente. Falcone gli fa cenno di continuare, è avido e impaziente di sapere. Era il 1957. Ero appena ritornato dall'America Latina con Melchiorra, la mia prima moglie. Si era trasferito in Argentina perché voleva affrancarsi da Cosa Nostra. Ci aveva provato ad essere onesto, ma le cose non gli andarono bene. In fondo era ormai un uomo d'onore rispettato e quello era il suo destino. Quando ritornò a Palermo trovò una città profondamente cambiata. Si demoliva tutto senza criterio alcuno. Venivano ridotte in macerie ville, liberti, palazzi seicenteschi, monumenti per far posto al cemento. Era cominciato il sacco di Palermo.